ciao mi chiamo silvia oggi è il mio compleanno e questa è una sorpresa un regalo che mi ha fatto genoa channel sono olmi ivano e sono stato invitato da genoa channel che mi ha voluto fare questa graditissima sorpresa di cui ne vado molto fiero e li ringrazio tantissimo per il giorno del mio compleanno il primo abbonamento io l'ho fatto nel 1980 e da allora non ho più smesso tornare allo stadio è una bella emozione perché per chi ci viene da tanti tanti anni vederlo così non è bellissimo mi immagino di essere la prima tifosa arrivata all'inizio di una partita e che gli altri devono ancora arrivare tutti così fa un po meno brutto a vedere lo stadio così vuoto da un po di tristezza perché io sono abituato a vederlo pieno a vederlo con tutti i colori e tutti il tutto il folklore della tifoseria genuana e vederlo così ti distrisce un po è una passione che ho avuto fin da piccolo comunque non è che una persona in particolare adesso sto insieme a una compagna che genuanissima e allora ha aumentato chiaramente il mio il mio amore verso il genoa ma non è che ne avessi più di tanto bisogno però lei ha dato un bel impulso verso l'alto se sono genuana lo devo a mio padre mi ha portato a vedere la prima partita credo che avessi 4 5 anni poi vabbè sporadicamente poi dalla stagione 80 81 abbiamo fatto lui lo aveva già ha fatto anche a me il primo abbonamento e da allora non non ho più smesso e siamo proprio una famiglia di genuani perché sua sorella i suoi cugini tutti cioè in famiglia genoa e basta lei è una che non guarda mai il derby perché lo patisce troppo quando abbiamo vinto 3 a 0 le non voleva venire allo stadio e gli avevo detto guarda vieni perché gli facciamo tre gol guarda vieni perché gli facciamo tre gol e venuta il genoa vinto 3 a 0 tutto il genoa mi lega mio papà perché io venivo con lui fino per anni sono venuta solo con lui se quello che mi ricordo parcheggiavamo la macchina in via montaldo e facevamo la scalinata montaldo classica ciao evano so che oggi fai gli anni quindi ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno e ti mando un abbraccio grande un grande saluto da macchia testa wow ciao silvia tantissimi auguri buon compleanno ti mando un abbraccio grande e spero che sia una giornata speciale per te un saluto ma ti avresti grazie ma dai controllo ti controllo ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.